Incredibile, ma vero. Nuovo dietrofronto del governo sul caso dei Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono tornati in India. Solo la scorsa settimana, l'11 marzo per la precisione, la decisione di farli arrestare in Italia, dove erano rientrati grazie ad un permesso elettorale di quattro settimane. Ieri il nuovo cambio di scena e la partenza. Latorre e Girone sono sotto processo per la morte di due pescatori locali, i due fucilieri sono accusati di aver ucciso avendoli scambiati per pirati. Un processo che, spiegano le autorità indiane, si terrà in un tribunale speciale. Il cambio di rotta del governo italiano è arrivato in seguito ad assicurazioni del governo indiano riguardo al trattamento che verrà riservato alla Torre e Girone e alla tutela dei loro diritti fondamentali. La decisione di far rientrare i Marò era stata sospesa, ma poi abbiamo ricevuto un documento da un autorevole organismo indiano che ci ha convinto, da cui la decisione di procedere al ritorno dei Marò, ha spiegato il sottosegretario agli esteri, Staffan De Mistura. Lo stesso De Mistura riferisce inoltre le parole dei due Marò alla vigilia della partenza. Siamo militari, noi andiamo avanti e andremo avanti, hanno detto. Sanno che l'Italia non li lascerà mai, ha aggiunto De Mistura, sottolineando inoltre che le loro famiglie sono state straordinarie perché hanno dovuto accettare per l'ennesima volta una delusione. Una delusione che si allarga macchia d'olio in tutto il paese. Il COCER, Consiglio Centrale di Rappresentanza della Marina Militare, esprime sulla vicenda il proprio sconcerto e disorientamento. Intanto, nei prossimi giorni sulla questione, il governo riferirà alla Camera. Grazie. 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 Grazie.